Nuove restrizioni, l'assedio ai non vaccinati è sempre più stringente. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un ultimo decreto che estende l'obbligo di Super Green Pass, quello cioè che non può essere ottenuto tramite i test. Alla lista dei luoghi e delle attività già contemplati nel decreto natale, dove si può accedere solo con la certificazione rafforzata, si aggiungono ora alberghi, cerimonie civili e religiose, sagre e fiere, bar e ristoranti anche all'aperto, impianti di risalita turistici commerciali, piscine, centri benessere anche all'aperto, cinema, teatri e musei. Anche per usufruire dei mezzi di trasporto pubblico sarà necessario il Super Green Pass. La certificazione di un test negativo entro le ultime 48 ore sarà valido solo per accedere al luogo di lavoro. Il decreto sarà in vigore dal 10 gennaio. Novità anche riguardo le quarantene, chi ha un contatto con un positivo accertato ma non ha sintomi, non dovrà isolarsi precauzionalmente se non sono trascorsi più di quattro mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione dal Covid. Sussisterà però l'obbligo di indossare mascherine FFP2 per 10 giorni dal contatto a rischio, mentre la quarantena termina nel momento in cui si è all'esito negativo di un test, seppure antigenico ed effettuato privatamente. La FFP2 comunque sarà obbligatoria in molti luoghi al chiuso e sui mezzi pubblici. Si ragiona sul prezzo calmierato di un euro a mascherina. Abbiamo incaricato il commissario Filuolo di avviare un percorso con le farmacie, ha dichiarato il sottosegretario alla salute Andrea Costa. Per quanto riguarda la capienza invece questa è ridotta al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per quelli al chiuso. Ad inizio gennaio si riunirà il Consiglio dei Ministri e non escluso che vengano introdotte ulteriori restrizioni. Negli ultimi giorni, visto il dilagare della variante Omicron, sono tantissime le persone che stanno tentando di sottoporsi al test anche per trascorrere il capodanno con maggiore serenità. In Abruzzo da ieri, semmai un test antigenico dovesse dare l'esito insperato, non è più necessario dover confermare la positività tramite tampone molecolare. Si raccomanda ai dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti, si legge nel documento inviato alle ASL dall'assessorato regionale alla salute, di riservare il test di conferma alle sole condizioni ritenute indispensabili.